Dai, proviamo. Toc, toc! Chi è? La mucca che interrompe. La mucca che interrompe? Tu non mi dà tempo di finire risposta. Io devo dire la mucca che interrompe. Ok, ora tu hai fatto l'altra volta. Esatto, per questo. Lasciami. Ora basta. È mucca che interrompe. Vada finita. Oh, guarda che prendo il nostro adesivo.